Il tuo fratello è morto. E il corpo? Non sarà sepolto più. Occiso il padre Orlando o un'altra persona. Sarà sepolto al cimitero con sua madre. La famiglia non si divide. Non c'è niente da trattare. La decisione è presa. Le ha disobbedito. E ha buttato la maledizione su questo paese facendo scorrere il veleno di suo fratello. Che disgrazia. Si è ripreso il corpo. Ma io è morto non le distrutto. Certe cose non le faccio. Che succede? Ma dimmelo, no? Bella! Fermo! Così muori due volte. Ma che stai dicendo?